Noi in questo mese abbiamo spinto l'acceleratore sulle preghiere, sulle suppliche, sull'attenzione a Maria. Il rischio che poi, ripeto, tutto finisca è dietro l'angolo. Che cosa di questo mese deve continuare, Parelucio, secondo te? Soprattutto la recita del rosario. Io penso che la riscoperta del rosario sia fondamentale per tutti i cristiani. Pensiamo al rosario nella famiglia. Quanto è importante se nelle famiglie si recupera il valore della recita del rosario. Io dico sempre, quando vengono delle coppie in crisi, io non voglio mai sapere che cosa è successo. Faccio solo una domanda. Avete mai pregato insieme? Dice no. E allora che cosa pretendevate? Di superare le difficoltà senza la preghiera. Allora il rosario diventa, io penso, una famiglia che tutte le sere dice rosario. Ma si separerà mai? Sicuramente no. È una cosa bellissima.